depressione capita comunque di tanto in tanto di sentirsi malinconico svuotato di energie incapace di provare interesse verso quello che si fa e di vedere tutto grigio queste lievi forme di depressione non richiedono farmaci ma solo qualche correzione nello stile di vita cosa fare ogni mattina fate lunghe camminate i benefici dell'esercizio fisico vigoroso e costante sono stupefacenti per il depresso e in parte sono dovuti all'adrenalina un ormone sprizza energia fabbricato dalle ghiandole surrenali ascoltate un po di musica tutti i giorni radio dischi o nastri non importa e poi cercate di migliorare la fiducia in voi stessi un modo assai efficace è quello di ripetere più volte al giorno una frase come questa sono tranquille sicuro di me e tutto va di bene in meglio l'affermazione non deve essere vera per forza ma ripetere la più volte finisce con l'influenzare l'inconscio modifica il vostro modo di pensare e risveglia il piacere di vivere